Da esattamente 25-26 anni abbiamo in Sicilia i lavoratori ASU. I lavoratori ASU in questa legge di stabilità che si appresta ad essere approvata nei prossimi giorni vengono presentati una serie di emendamenti per questa platea. In realtà quello che si legge nel testo di legge si parla nuovamente di misure di sostegno al reddito. Il governo Schifani come i precedenti governi promette nei vari spot che vengono fatti nelle diverse testate giornalistiche la promessa di stabilizzazione. Ad oggi di concreto non c'è nulla. Non vorremmo che venisse nuovamente, ci troviamo di fronte a un ulteriore articolo 36 bis dove è stato impugnato dal governo nazionale. Chiediamo fortemente una convocazione da parte della commissione lavoro, è stata fatta una richiesta a sigle congiunte affinché si possa collaborare e vedere in maniera preventiva prima che arrivi in aula questi emendamenti affinché non vengano impugnati a Roma. Ecco, di fatto voi siete oggi impiegati in enti locali alla regione siciliana, dico quindi la stabilizzazione dovrebbe essere un qualcosa di automatico, mentre invece si tratta di un sussidio. Esatto, sì, si tratta ad oggi i lavoratori ASU della regione siciliana, secondo l'ultimo impegno di spesa sono 3.689, di cui 269 impegnati in diretta utilizzazione dalla regione siciliana. Con una sentenza, la 199-2020, la regione ha un obbligo, secondo una legge ad oggi tuttora vigente, ossia quella di prevedere pieno di fuoriuscita e l'inserimento del PIAO di questi soggetti, perché è l'ente utilizzatore. Poi abbiamo una platea di lavoratori impegnati nel privato sociale e 2.834 lavoratori impegnati negli enti locali, tutti lavoratori senza contratto, senza contributi, lavoratori in nero per la pubblica amministrazione, risultiamo inoccupati.